Presidente, è di oggi il voto con cui i consiglieri della Camera di Commercio di Ferrara hanno scelto di accorparsi con la Camera di Commercio di Ravenna. Che cosa significa questo per le aziende ferrarese e per il territorio? Significa una nuova prospettiva che chiaramente adesso dovremo riempire di contenuti. Come noto la legge di riforma della pubblica amministrazione ci costringe in qualche modo semplicemente perché abbiamo meno di 75 mila imprese ad accorparci con un'altra Camera di Commercio. Sono state sondate diverse ipotesi, una prima ipotesi prevedeva Bologna che si è subito defilata, un'altra ipotesi Modena. Siamo arrivati oggi, dopo un percorso di condivisione, di discussione, a votare l'ipotesi di accorpamento con Ravenna. Con un voto che voglio sottolineare, 21 a 7, quindi un voto che è circa l'80% dei componenti del Consiglio, quindi un'espressione sostanzialmente di grande condivisione. Perché Ravenna è la domanda fondamentale che sappiamo non era nel pensiero di tutte le associazioni imprenditoriali, anche se molte di quelle che non avevano questo obiettivo hanno invece dato il loro voto. Intanto perché con Ravenna si è concretizzato un percorso che è arrivato anche a un'espressione della Giunta della Camera di Commercio di Ravenna che ci chiedeva di esprimerci in tal senso anche noi. Quindi c'è stata un'interlocuzione fattiva nel tempo che ha portato oggi i due consigli insieme ad esprimersi per un percorso di accorpamento fra le due Camere di Commercio. Voglio sottolineare, ed è bene secondo me farlo, che stiamo parlando di accorpamento non di due territori, stiamo parlando di accorpamento di due Camere di Commercio. Il vero valore che noi dobbiamo ottenere è che questo accorpamento crei un valore aggiunto in termini di ritorno alle imprese di ciò che le Camere di Commercio introitano come diritto camerale e bisognerà mettere insieme un progetto di sviluppo che preveda certamente il turismo ma anche la manifattura. Io credo che la vera sfida che noi abbiamo per il futuro anche nella logica di un accorpamento fattivo sia proprio questa, cercare delle traiettorie nuove di sviluppo perché è in dubbio che il mondo sta cambiando. Il personale e gli organismi di governo che fine faranno? Beh, intanto il personale, lo voglio dire subito con grande fermezza, è assolutamente tutelato. Gli organismi ovviamente saranno accettrati, quindi ci sarà un presidente, un segretario, una giunta e un consiglio. Altrimenti non ci sarebbe una logica, nel senso che nulla cambierebbe. È un percorso nuovo, io l'ho sempre detto, l'abbiamo vissuto all'inizio come una penalizzazione, l'abbiamo trasformato però immediatamente come sfida. Abbiamo partecipato, devo dire, come Ferrari in maniera fattiva anche nell'interlocuzione con il governo che ha portato da un inizio che sembrava di chiusura sostanziale delle Camere di Commercio, invece una logica di rilancio in cui il governo attraverso la legge di riordino ha dato appunto nuovi ambiti di interazione alla Camere di Commercio rispetto ai processi di sviluppo. Ecco, lei diceva che anche le associazioni o i consiglieri che hanno votato conto hanno per ora conosciuto la Camere di Commercio di Ferrara dei meriti assoluti. Guardi, questa è la cosa che mi fa più piacere e di cui sono più contento. È anche orgoglioso, permettetemi di dirlo. Tutte le associazioni che si sono espresse in consiglio, anche coloro che si sono espresse in maniera negativa, hanno riconosciuto la capacità di questa Camere di Commercio di essere al fianco delle imprese, di essere un elemento aggregatore, di partecipare ai progetti di sviluppo e di essere veramente al fianco delle imprese in questo momento di difficoltà che le stesse imprese stanno vivendo, che è quello che io credo gli imprenditori chiedano alla Camera di Commercio e che è quello che devono chiedere a maggior ragione alla Camera di Commercio accorpata.